E corse in farmacia per l'ultimo regalo da mettere sotto l'albero, il tampone anti-Covid e fai da te, test diventato praticamente introvabile. C'è chi ne compra che uno, ma la media sono 10, anche 50, dipende dal... 50? Sì, sì, sì. E la tendenza a cui si sta assistendo in particolare in queste ultime ore di festività 2021. Più che un regalo è la necessità di una sicurezza, spiega il farmacista, quella di non essere positivi al Covid. Qui da poche ore dal ritrovo con familiari, parenti e amici per il cenone della vigilia di Natale. Più di mille i tamponi rapidi effettuati in una sola giornata da questa struttura sanitaria del veneziano a Marghera. La positività al Covid, spiega il farmacista, riguarda per lo più i bambini. I positivi sono bambini, maestri, professori delle scuole e purtroppo mi dispiace di tanti stranieri. I stranieri sono fortemente positivi. Qui in farmacia il bevai di gente è in effetti incessante e continuo. Lo si misura dal campanello che suona ogni qualvolta entra qualcuno, aprendo la porta di ingresso. Oggi assistiamo a due effetti importanti. Uno, l'aumento di richiesta di tamponi. La positività di molta gente con due iniezioni, questo fa pensare. Tre, il fatto che la gente vuole avere un tampone per poter uscire un attimo. E le lunghe code dell'attesa fuori come dentro la farmacia lo confermano. Qui tra prenotazioni e arrivi dell'ultimo minuto si lavorerà incessantemente anche a Natale e a Santo Stefano. Sempre per fare tamponi rapidi e vaccini. Vengono a comprare i tamponi fai da te perché vogliono familiarmente essere tranquilli e avere una risposta in questo senso. Direi che c'è una richiesta importante di tamponi rapidi a uso familiare. Qui arriva gente anche da Padova e Treviso per l'acquisto sia del tampone nasale fai da te che di quello salivare. Tampone fai da te che in caso di esito positivo non è malauguratamente tracciabile in alcun modo, se non dalla scelta dettata dal senso etico e di responsabilità della singola persona. I tamponi invece uso casalingro vendiamo 10 euro al pezzo. So che in giro li vendono gli stessi a 14 mi hanno detto.